Mariani esiste l'onore delle armi, un saluto all'onorevole Tommaso Ginobile, finisce con la candidatura, la sua ultima candidatura a sindaco di Roseto, la sconfitta, finisce un'era. Questo lo decide lui naturalmente, mi ha già sorpreso l'ultima candidatura come ho detto più volte, però la fine si è misurato democraticamente, quindi c'è stato il verdetto delle urne che ha decretato due vincitori al momento, quindi di conseguenza sicuramente c'è il rispetto personale. Per quanto riguarda la valutazione politica naturalmente c'è tutt'altro di cui parlare, in quanto dispiace che l'area di centro-sinistra ancora una volta si divide e quindi di conseguenza perde un'occasione per competere in maniera adeguata. Se ci fosse stata l'unione naturalmente avremmo avuto più competizione e la possibilità anche di raggiungere il ballottaggio. Lasciamo perdere la brutta figura del Partito Democratico a Roseto, parliamo di quelle che sono le dinamiche provinciali, i nuovi sindaci, come cambia il panorama e soprattutto che cosa accadrà nei vari enti, parlo del Ruzzo e parlo del BIM? Innanzitutto quando ci si divide la brutta figura la fanno tutti naturalmente. Su quello che cambia a livello di enti sovraccomunali non spetta a me dirlo, naturalmente spetta alle segreterie di partito, ai vari rappresentanti politici. Il problema non è cambiare i nomi, il problema è vedere come cambiano le situazioni e come cambia la visione. È più un ragionamento diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Oggi la gente ci chiede tutt'altro, è finito questa emozionalità dell'uno vale uno che tanto è piaciuto. Vediamo il risultato anche di quei partiti come il Lega e il 5 Stelle che hanno fatto del populismo una bandiera. Oggi naturalmente è andare in affanno, spero e speriamo che torni il momento della meritocrazia. Chi andrà a fare il presidente del BIM a marzo? Troppo presto per dirlo, saranno i sindaci poi a decidere. Naturalmente ci sarà anche il tavolo politico dove sicuramente dirò anche la mia, come ho sempre fatto.